amici di gist china.it prova di registrazione video a 1080p con il nubia z9 mini vediamo la messa a fuoco automatica un pan veloce un po di controluce davvero poco perché oggi non ce n'è tanta ritorniamo sull'oggetto avvicinato e vediamo una messa a fuoco con il tap ecco qua